Che la curva dei contagi si sia piegata non c'è dubbio, fiducia sì, cautela pure. Il ministro della Salute Roberto Speranza parla all'inaugurazione dell'edificio ad alto isolamento dello Spallanzani di Roma e dice che sarebbe uno sbaglio considerare vinta la battaglia contro il virus. Stessa posizione dell'Istituto Superiore di Sanità. Anche quando parliamo di aprire alcune misure si esprime sempre la cautela e la necessità di muoversi passo dopo passo proprio perché la situazione epidemiologica è nettamente migliorata ma comunque ha una circolazione che non possiamo ignorare e di cui dobbiamo tenere conto. Intanto in attesa che il governo prenda decisioni definitive sulla fase 2 dalle regioni arriva qualche segnale. In Veneto via libera la vendita del cibo per asporto, nei take away, pasticcerie e gelaterie. Finora era possibile solo la consegna a domicilio mantenendo il divieto di consumo all'interno dei locali. Riaperti i cimiteri, si lavora per le scuole dell'infanzia ma a precisa zaia non sono provvedimenti in contrasto con il governo. Il lavoro è stato fatto bene dai veneti e è giusto allentare ancora. Cioè se c'è un caso e non allenti allora non si spiega che senso ha a fare i sacrifici. Ma dal 4 maggio non si è liberi tutti dove ognuno ricomincia a fare quello che vuole. A sostenerlo il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana, che tuttavia considera inaccettabile il fatto di limitare la vita alle persone con più di 60 anni. Ma al 4 maggio bisogna arrivare, bisogna farlo attraverso due ponti. Per quello della liberazione, previsti i controlli ancora più serrati per evitare spostamenti non consentiti. Ieri 400.000 le persone fermate, 6.300 quelle denunciate.